Quando si parla di finanziamenti, capita spesso di sentire la parola TAEG. Ma sappiamo davvero che cosa significa? Il TAEG, sigla che sta per Tasso Annuo Effettivo Globale, è la percentuale che indica il costo totale annuo del tuo finanziamento. È l'indicatore più completo del costo di un finanziamento e comprende il TAN, Tasso Annuale Nominale, le commissioni, comprese quelle per il mediatore creditizio noti al finanziatore, le tasse e gli altri costi legati ai servizi accessori necessari per ottenere il credito. Ricorda però che dal TAEG restano escluse alcune spese, come quelle notarili o eventuali penali e interessi di mora.